Ciao a tutti, oggi parliamo della malattia degenerativa valvolare della valvola mitralica nel cane di piccola taglia. È una patologia che ha una sua complessità e ovviamente per spiegarla in maniera più corretta possibile dovrei usare dei termini che molti di voi non conoscerebbero, quindi cerco di fare un video che possa essere più semplice possibile per farvi capire questa patologia che ha una sua complessità ma che ha anche una sua importanza nei cani di piccola taglia. Si pensa che molti cani di piccola taglia nell'arco della loro vita andranno incontro a degenerazione valvolare e quindi è molto importante che questo video voi lo capiate bene e capiate bene soprattutto alcuni punti perché la diagnosi precoce e il controllo di questa patologia fanno la differenza ovviamente su poi l'evoluzione della patologia stessa e quindi sulla qualità della vita e la durata della vita del vostro cane. Partiamo subito col cercare di spiegarvi il cuore che è un organo affascinante ma fondamentalmente non viene quasi mai spiegato in maniera corretta nelle scuole diciamo medie o superiori oppure viene spiegato ma chiaramente magari uno non è così attento. Noi dobbiamo prendere il nostro cuore e dividerlo a metà cuore sinistra e cuore destro. Il cuore sinistro fondamentalmente è formato da un atro sinistro e da un ventricolo sinistro. La comunicazione tra atrio e ventricolo è divisa da questa valvola che si chiama valvola mitralica quindi questa patologia questa degenerazione questa valvola avviene nel cuore sinistro. A destra abbiamo sempre un atrio e un ventricolo e anche questi sono ovviamente divisi da una valvola che fondamentalmente è la valvola tricuspide. Anche la valvola tricuspide può subire degenerazione ma è più rara. In questo video ci occuperemo fondamentalmente della valvola mitralica quindi cuore sinistro. Perché si suddivide cuore sinistro e cuore destro? Perché fondamentalmente cerco anche qui di essere più semplice possibile. Fondamentalmente dal ventricolo sinistro parte diciamo la orta che fondamentalmente porta sangue ossigenato in tutti gli organi. Questo sangue poi viene recuperato diciamo da tutte le vene e arriva nell'atrio destro quindi ventricolo sinistro aorta sangue ossigenato poi arriva sangue non ossigenato nell'atrio destro questo tramite la valvola tricuspide va nel ventricolo destro e qui tramite le arterie polmonari viene riossigenato attraverso i polmoni e dai polmoni arriva fondamentalmente tramite le vene polmonari nell'atrio sinistro sangue ossigenato che tramite la valvola mitralica arriva al ventricolo sinistro e riparte il giro con la orta. Spero di avervi spiegato più semplicemente possibile come funziona il nostro cuore e il cuore dei nostri animali. Quindi fondamentalmente abbiamo una degenerazione di questa valvola quindi il meccanismo atrio ventricolo sinistra non funziona o meglio il nostro cuore è fatto in modo che tutto sia abbastanza perfetto quindi a livello di pressioni a livello di turbolenze deve essere tutto perfetto. Se qualcosa non è perfetto il nostro cuore fa fondamentalmente mette in moto dei meccanismi cercando di fare del bene a queste cose strane che cambiano l'equilibrio del nostro cuore. Il problema è che questi meccanismi tendenzialmente peggiorano ancora di più la situazione e quindi manda poi il cuore in insufficienza cardiaca ovvero il nostro cuore fondamentalmente ripeto è una macchina perfetta quindi se c'è un cambiamento come in questo caso una valvola che non funziona perfettamente che non chiude bene l'atrio e il ventricolo avremo un rigurgito di sangue nell'atrio quando abbiamo l'espulsione di sangue dalla orta dal ventricolo questa cosa qua fa cambiare un po le pressioni queste turbolenze non piacciono al nostro cuore che mette in atto dei meccanismi in modo tale che ciò non dovrebbe più avvenire il problema è che tendenzialmente il cuore ha questo brutto vizio di ingrossarsi e ingrossandosi crea fondamentalmente ancora più danno perché le valvole fondamentalmente non chiudono ancora di più e quindi c'è un continuo peggioramento si va in insufficienza cardiaca l'insufficienza cardiaca congestizia che è conseguente che è una conseguenza della malattia degenerativa ventricolare porta fondamentalmente alla formazione di liquido all'interno dei polmoni che si chiama edema polmonare quindi l'edema polmonare non permette lo scambio gassoso dell'area che noi respiriamo a livello dei nostri capillari a livello del polmone quindi l'ossigeno non riesce ad essere scambiato e quindi andiamo in insufficienza respiratoria e quindi chiaramente l'edema polmonare poi ci porta alla morte nostra se abbiamo questo tipo problema o del nostro cane se ha un insufficienza cardiaco congestizia all'ultimo stadio degli stadi dell'insufficienza cardiaco congestizia ne parleremo in un altro video perché altrimenti diventa troppo corposo ora ritorniamo alla nostra malattia degenerativa valvolare che cosa chi la provoca questa degenerazione come ho detto oltre che si sospetta che il 70 per cento dei casi di insufficienza cardiaco congestizia sia causato dalla malattia degenerativa mitralica della valvola mitralica fondamentalmente si pensa che ci sia una base genetica infatti ci sono delle razze predisposte una fra tutte è il cavalier king Charles Peniel che addirittura ha una degenerazione molto giovanile di questa valvola ed è una delle razze per cui è molto importante fare determinati esami strumentali fin da subito per tenere sotto controllo questo tipo di degenerazione abbiamo anche altre razze di solito sono razze di piccola taglia e fondamentalmente abbiamo il barboncino possiamo avere il chihuahua il boston terrier il pechinese il bassotto anche razze ovviamente metice di piccola taglia sono abbastanza frequenti un'altra causa che potrebbe creare degenerazione della valvola mitralica sono i denti ed è molto importante la gestione delle paradontopatie perché fondamentalmente la presenza di tartaro sotto quel tartaro ci sono dei batteri lì che potrebbero prendere poi il sangue e andare a colonizzare il cuore e di solito amano colonizzare le nostre valvole e quindi potremmo avere una colonizzazione batterica delle valvole mitraliche creando quella che si chiama endocardiosi e questa è una patologia molto grave che poi può provocare chiaramente emboli settici e la morte chiaramente del soggetto quindi ricapitolando abbiamo questa patologia che può essere su base genetica può essere su base acquisita ripeto un processo infettivo potrebbe colonizzare nostre le nostre valvole mitraliche la valvola mitralica cosa fondamentalmente noi quando un cane ha una degenerazione della valvola mitralica noi cosa vediamo nel nostro cane lì dipende molto dalla fase della degenerazione e dalla fase in cui si trova l'insufficienza cardiaca potremmo non accorgerci di nulla il cane potrebbe essere tranquillamente normale non vedere nulla e qui è importante il medico veterinario perché durante magari una visita per le vaccinazioni o una visita generale o una visita di controllo ascoltando fondamentalmente il cuore sentirà un soffio un soffio che può essere anche un piccolo soffio e questo soffio va fondamentalmente tenuto conto per poi andare a fare degli esami strumentali la presenza del soffio non significa che il nostro cane debba fare una terapia però significa che dobbiamo andare a capire quello che sta succedendo nel cuore del nostro cane per capire se ha già bisogno di terapia o non ha bisogno di terapia quindi quello che di solito in una prima fase si sente sente il medico veterinario è il soffio cardiaco quando invece la patologia in uno stadio più avanzato e quindi magari ci sono già dei segni di insufficienza cardiaca il proprietario comincia a vedere magari un animale che è intollerante all'esercizio fisico un cane che è più stanco un cane che ha una voglia magari di correre come un tempo un cane che magari comincia anche a tossire un cane che potrebbe svenire avere delle sincopi dei collassi e in ultima analisi un cane che fondamentalmente una fase terminale presenta chiaramente un edema polmonare importante quindi il respiro può sentire queste bollicine rompersi e tossire in maniera importante e quindi andare in insufficienza respiratoria si spera che questo punto non avvenga chiaramente senza che prima sia stato gestito in maniera corretta tecnicamente ripeto alle visite normale le visite generali le visite per una vaccinazione il medico veterinario dovrebbe accorgere il soffio e poi proporre a voi una serie di accertamenti per capire eventualmente prima di tutto che patologia cardiaca a eventualmente il cane e ovviamente la la gravità di questa patologia quindi di solito cosa si propone di solito si propone un ecocardiografia ovvero una un ecografia del cuore che fondamentalmente ci permette attraverso delle misurazioni e attraverso anche la valutazione di queste turbolenze di questi rigurgiti di valutare sia la presenza chiaramente della malattia degenerativa valvolare della mitralica sia la gravità di questo e quindi tendenzialmente l'ecografista il cardiologo poi valutano il grado di questa patologia e in base al grado si si imposta una determinata terapia se il grado è un grado diciamo a un grado lieve diciamo tendenzialmente non si fa terapia perché i farmaci che noi diamo servono un attimo per contrastare non tanto la degenerazione valvolare ma la modifica del cuore per colpa di questa degenerazione quindi se non c'è in corso una modifica strutturale del cuore non si impostano non si danno dette determinati farmaci che vanno che tecnicamente servono per rallentare questa trasformazione altrimenti si rischia di peggiorare la cosa quindi è molto importante prima di dare farmaci quando sente un soffio cardiaco fare l'ecocardiografia perché altrimenti si rischia di dare dei farmaci che potrebbero anche modificare visto che sono di solito dei farmaci che vanno a lavorare fondamentalmente sul sovraccarico quindi a modificare magari inutilmente la situazione mentre invece quando ci sono dei gradi che necessitano terapia è molto importante invece in quel caso somministrare i farmaci in modo tale da rallentare il processo chiaramente che comunque in atto e che comunque non è fermabile per cercare di rallentare poi la presenza di insufficienza cardiaca congestizia e quindi la formazione di edema polmonare il concetto è quello di riuscire a non avere animali che vanno in edema polmonare che ovviamente creano grandissimi problemi all'animale ovviamente con rischio di grande rischio di morire quindi quello che è importante in questo video è fondamentalmente se avete dei cani che sono delle razze predisposte come per esempio il cavalier king cherspaniel di effettuare le ecocardiografie in maniera regolare col vostro medico veterinario e controllare chiaramente il vostro cane in modo che già ai primi segni di modifica del cuore si può impostare fondamentalmente la terapia l'altra cosa che è molto importante è di non sottovalutare la quando il vostro medico veterinario durante la visita vi sottolinea che c'è un soffio cardiaco anche se voi vedete il cane stare bene è meglio ripeto un esame in più tra virgolette per nulla che sottovalutare un soffio cardiaco e magari non impostare poi una terapia per rallentare il processo dell'insufficienza cardiaco con gestizia la terza cosa la gestione dei denti ripeto i denti sono molto spesso un problema che viene sottovalutato dai proprietari dei cani perché fondamentalmente non si dà quel peso che invece necessitano quando noi abbiamo queste bocche piene di tartaro con addirittura si vede proprio l'infezione sotto il tartaro sono praticamente delle bombe ad oro ligeria nel senso che lì batteri possono prendere la possono prendere la via diciamo del sangue chiamiamola così ed andare a colonizzare poi vari organi tra cui i i reni ma è il cuore e a volte anche la prostata nei maschi chiaramente interi e dare ovviamente delle patologie importanti come endocarditi insufficienza renale e fondamentalmente prostatiti batteriche questa cosa molto importante quindi la gestione la pulizia dei denti non aspettate di avere cani con delle bocche devastate per pulire i denti i denti vanno puliti in anestesia con fondamentalmente la detartrasi quando non sono esageratamente brutti quando sono lievemente barra moderatamente brutti perché altrimenti abbiamo delle potremmo avere delle situazioni concomitanti quindi un cane che ha una grave paradontopatia un soffio cardiaco causato da un endocardite causata dai batteri che dalla bocca sono arrivati alle valvole alla valvola mitralica quindi è molto importante in questo video associato il discorso denti cuore che molto spesso va a passeggio non sempre ripeto perché la malattia degenerativa valvolare può esserci anche se voi avete la bocca estremamente pulita però questo è un fattore in più che un proprietario di cani deve tenere in conto la terza cosa sono fondamentalmente la tosse anche lì la tosse può ovviamente avere origine dell'apparato respiratorio ma potrebbe anche essere un problema fondamentalmente di origine cardiaca quindi il medico veterinario deve differenziare la tosse tra una tosse diciamo cardiaca tra tra virgolette e una tosse fondamentalmente dell'apparato respiratorio a volte ovviamente come vi ho spiegato prima cuore polmone vanno anche d'accordo qui cioè vanno abbastanza in simbiosi diciamo e quindi fondamentalmente è compito poi di noi medici veterinari andare a capire qual è il problema che ha generato chiaramente la tosse e poi anche gli svenimenti le sincopi l'intolleranza l'esercizio fisico sono tutti segni che potrebbe dare dei problemi un'altra cosa che è molto importante per un proprietario è quella di misurare la frequenza respiratoria dei nostri animali perché quello è un campanello che ci dice quanto sta soffrendo tra virgolette il nostro cuore e di solito si misura quando il cane dorme e chiaramente si contano gli atti respiratori al minuto tendenzialmente non dovrebbero essere più di 14 18 atti respiratori al minuto quando iniziamo a averne magari 30 vuol dire che quel cuore lì non è che funziona perfettamente questa qua è un'altra cosa che di solito poi si dice i proprietari quando il proprio cane viene diagnosticata una malattia degenerativa della valvola mitralica cioè quello di controllare quando il cane dorme gli atti respiratori in modo da capire quando sta andando un po in sofferenza generalmente poi se sono delle razze predisposte si consiglia anche delle valutazioni ecocardiografie regolari ogni anno e poi ovviamente in base a il grado anche più frequenti per cercare di poi andare a valutare una volta che si inizia magari la terapia per cercare di rallentare il processo per vedere di dare il minimo terapia che ci serve per gestire poi l'evoluzione della patologia so che questo video è un bel bel mattone spero di essere stato più semplice possibile e se siete interessati a questi argomenti mettete sempre un bel mi piace per sostenere il progetto e iscrivetevi al canale e un saluto a tutti ci vediamo al prossimo video